Il film si chiama Katabasis, si intitola Katabasis, è l'opera seconda di Samantha Casella, la sua opera prima si chiama Santa Guerra, ha vinto più di 600 premi in giro per il mondo. Mi sono approcciato a questo film in maniera entusiasta, perché è un genere totalmente diverso da quelli che ho fatto finora, un genere di nicchia, un thriller noir, un po' così, che tratta temi importanti come gli abusi, temi come il trauma e altro, e quindi è stata una scoperta. Poi la regista è molto brava a raccontare tramite immagini, ferme immagini, simbologie, quindi se uno conosce magari la storia dietro queste immagini può comprendere anche meglio il messaggio di questo film. Per tutti gli attori che sognano di fare questo mestiere, arrivare a Venezia e fare Red Carpet è stato un sogno ad occhi aperti, quindi la prima volta non si scorda mai.